Ilaria, ma da dove arrivi? Mauro, sono andato a ritirare le carte regalo Ah, fai la spesa con noi! E' il nostro nuovo concorso Senti, ma come fare per vincerle? Basta seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì l'appetito vi è incantante in viola ragazzi Mi raccomando, 200 euro in buoni spesa Ma tanta roba! Allora, senti Mauro, ho fatto una spesuccia nel frattempo Benissimo, benissimo Mi aiuti a portare via? Benissimo, sì, sì Guarda, piano che sono pesanti, piano Ok, dammi, dammi Mamma mia, quanta spesa hai fatto? Seguiteci, seguiteci! Vai, vai Mauro, vai!